Buonasera ai nostri telespettatori, vi ritrovate all'appuntamento con la politica nella rubrica Il Fatto, ospiti in questi giorni i consiglieri regionali d'Abruzzo della dodicesima legislatura che è appena iniziata, salutiamo e ringraziamo Vincenzo Dincecco, capogruppo della Lega, buonasera. Buonasera, buonasera a voi tutti. Allora intanto, oltre un mese dal risultato elettorale, i commenti su quello che è accaduto in Abruzzo il 10 di marzo, una campagna elettorale che per quanto riguarda chi vi ha sfidato, chi ha sfidato la coalizione di Marsiglio avrebbe avuto un esito un po' più combattuto rispetto invece a quello che è stata una indicazione da parte dei cittadini, sia pure non tanti, anzi davvero pochi rispetto al corpo elettorale, ancora una volta alla metà, però piuttosto chiara, riconferma del centrodestra e del suo Presidente. Qual è, adesso che sono passati appunto più di 30 giorni, il suo giudizio sull'orientamento che gli abruzzesi hanno espresso nelle urne d'Incecco? Sicuramente il dato elettorale è stato un dato molto chiaro, qualcuno nutriva dei dubbi prima e durante la campagna elettorale, io ho sempre ritenuto che l'esito finale non fosse in discussione, ovviamente votano i cittadini e quindi è normale che durante la campagna elettorale ci possa essere un dibattito che possa anche accendere le speranze degli sfidanti, in questo caso sappiamo bene tutti che qualche giorno prima si era votato in Sardegna, quindi c'era stato questo dato elettorale che è stato in qualche modo utilizzato come leva per accendere un riflettore sulla regione Abruzzo, abbiamo avuto per settimane l'Abruzzo al centro del dibattito di tutti i media nazionali come se fosse un test di rilevanza quasi vitale per il governo stesso, il dato elettorale è stato un dato chiaro, si è vinto e si è vinto non di misura ma si è vinto serenamente con numeri oggettivamente schiaccianti, questo ci fa ricostruire il fatto che noi in cinque anni abbiamo lavorato con tenacia, con sacrificio, i cittadini questo ce lo hanno riconosciuto, sono stati cinque anni particolari, c'è stata di mezzo una pandemia che comunque ha in qualche modo modificato quella che è la classica che è normale l'amministrazione, ma se portiamo sulle spalle e soprattutto nel cuore il fatto di essere stato l'unico governo regionale nella storia della regione Abruzzo che è stato riconfermato, questo io credo che sia un dato di grande effetto ma soprattutto anche di grande orgoglio, penso di essere un pezzettino di più di tanti altri orgogliosi di aver fatto il capogruppo di un partito, il primo partito di cinque anni fa che ha permesso a questo governo regionale di essere rieletto per la prima volta, quindi ha permesso a un governatore e alla sua squadra e al suo consiglio di tornare in sella a governare l'Abruzzo, questo è un dato di grande orgoglio per tutti noi. Un dato quello della Lega che è diverso ovviamente da quello di cinque anni fa quando vi fu quell'exploat, ma è sovrapponibile più o meno a quello delle politiche, qualcuno aveva ipotizzato un vostro tracollo in Abruzzo, in realtà qual è lo stato di salute del partito e delle liste che poi lo hanno rappresentato nel giudizio dei cittadini? Diciamo che sono stati cinque anni complicati, noi abbiamo toccato l'apice nel 2019, probabilmente in una lunga scia che è partita dalle politiche del 2018 fino ad arrivare a delle europee del 2019, poi ci sono stati cinque anni in cui abbiamo sicuramente vissuto dei momenti particolari, oggi la politica ci dice e ci fa vedere che ogni due, tre, quattro, cinque anni i numeri cambiano all'interno dei partiti, purtroppo le persone si muovono in maniera repentina e secondo me anche disconnessa tra un partito e l'altro, è ormai un dato di fatto, ahimè lo dico perché forse è anche troppo eccessivo, però io credo che in questa regione la Lega abbia saputo mantenere una modalità di lavoro tra le tante difficoltà che l'ha portata appunto a mantenere un target che è vicino a quello nazionale, lo abbiamo visto anche alle politiche, voglio dire che la sfida del nostro leader di portare la Lega a essere un partito nazionale e quindi con un respiro nazionale, con un respiro nazionale inteso come una costruzione di un percorso che vede l'Italia protagonista all'interno di un ragionamento molto più grande che quello dell'Europa e del mondo, quindi il superamento del regionalismo fine a se stesso, ma all'inserimento di questo all'interno di una dinamica nazionale ed europea io credo che sia una sfida che abbia bisogno di tempo per essere del tutto metabolizzata anche dalle popolazioni del centro-sud Italia, però credo che ormai da questo punto di vista noi possiamo guardare al futuro con uno sguardo un po' più sereno, d'altronde in 5-6 anni questo partito è stato trasformato da un partito regionalista, autonomista e un partito nazionale quindi ci vuole tempo, adesso noi abbiamo sulla schiena la responsabilità di costruire anzi di ricostruire un percorso di crescita cercando di coinvolgere amministratori, personale politico, persone nuove che si vogliono avvicinare alla politica, lo sappiamo fare e lo dobbiamo mettere in campo, dobbiamo mettere in campo tutte le energie migliori perché io credo che il futuro ci possa permettere di tornare ai numeri di un tempo, ma per fare questo ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio e soprattutto il coinvolgimento di persone lineari che sappiano coinvolgersi perché credono in un progetto, credono nel nostro lavoro, quindi dobbiamo essere un po' più precisi nel lavorare in maniera chirurgica per costruire questo percorso, io sono fiducioso che questo si possa fare e quindi credo che il dato elettorale e regionale delle regionali sia un dato che in linea, anzi nonostante qualcuno magari ci pensasse, ci pensava finiti o morti, noi siamo ancora qui, vivi e veggiti per continuare a testimoniare la presenza della Lega e delle idee della Lega. Mi ha anticipato la risposta alla domanda che le stavo per farle, circa appunto il dibattito interno alla Lega proprio di questi giorni, circa il suo radicamento nazionale, anche il malumore da parte di alcuni dirigenti anche storici del Nord, però torniamo sull'Abruzzo per chiederle, Vincenzo Dincecco è soddisfatto del suo risultato personale, anche della sua riconferma a capogruppo in un contesto di discussioni che mi pare siano ancora in corso con il Presidente Marsiglio, circa l'asetto definitivo della nuova geografia del centro-destra in Consiglio regionale, è così? Vincenzo Dincecco è abituato a lavorare in una squadra, quindi penso che in questi anni sono riuscito insieme a tanti amici e tanti amministratori a costruire una squadra di persone che sanno stare insieme e sanno costruire un percorso, non guardo mai al dato personale, quindi al titolo, all'onereficenza personale, ma cerco sempre di guardare a quello che il contesto politico può riservare e quello che noi sappiamo costruire all'interno di una dinamica di partito e anche all'interno di una dinamica amministrativa. Sono soddisfatto dei numeri che abbiamo riportato durante la campagna elettorale perché anche qui prendere quasi le stesse preferenze di 5 anni fa in un contesto che si è molto rimpicciolito o significa che evidentemente c'è stato un lavoro legato al territorio, all'impegno, alla rappresentanza, alla presenza, all'ascolto e quindi di questo sono molto contento. Tutto quello che ci sarà da fare nei prossimi mesi sarà determinante e noi ci misureremo sulle cose da fare in Consiglio regionale, sulle proposte di legge, sulle attività e su quello che il Consiglio in questi prossimi 5 anni dovrà fare insieme all'interno di una maggioranza che ha delle sfide da cogliere e all'interno delle quali la Lega sicuramente avrà un ruolo determinante. La politica non inizia oggi, non finisce domani, i percorsi personali sono lunghi e hanno necessità di serenità, di tranquillità e soprattutto di una grande squadra perché da soli non si raggiungono obiettivi così importanti, io non posso che essere soddisfatto, ovviamente penso che c'è ancora tanto da fare e su tante cose dobbiamo ancora esprimerci e gettare il cuore al trastacolo, lo faremo nei prossimi mesi. Allora, da un lato c'è la posizione molto chiara di Marsiglio espressa anche oggi sui giornali, penso anche di chiunque si trovasse a governare una regione come l'Abruzzo, chi l'abbia già fatto e chi la farà in futuro se non cambieranno le regole, rispetto al fatto che sei assessori sono troppo pochi e quindi c'è stata anche la necessità della supplenza e di una serie di meccanismi che avete innescato per poter governare una regione e seguire anche il lavoro in consiglio regionale nelle varie commissioni, a differenza di altre regioni come la Sardegna che per lo stesso numero di abitanti ne hanno 12. Qui al di là del discorso sulle poltrone poi ci porterebbe su altri temi, voi avete posto anche, e questo discorso le potrebbe interessare direttamente anche il tema di un secondo sottosegretariato alla Presidenza proprio per poter seguire meglio alcune partite, a suo avviso è chiuso l'assetto della governance della Giunta in questo momento oppure c'è una discussione ancora in corso. Partiamo da un assunto, negli anni precedenti come è accaduto in una fase storica di questo Paese si è pensato che diminuire o comunque tagliare con un'accetta i posti di governo all'interno dei consigli regionali potesse essere la soluzione male di questo Paese, tagliare le province, i consiglieri comunali, tagliare la partecipazione politica, si è un po' pensato che potesse essere la risoluzione dei problemi di questo Paese, così non è stato, lo abbiamo visto in questi anni, assistito alla diminuzione, al taglio delle circoscrizioni nei comuni, al taglio dei consiglieri comunali, al taglio dei consiglieri regionali, alla diminuzione delle province, dei numeri di consiglieri provinciali, c'è stato un taglio lineare e generale di tutto, al taglio dei parlamentari, dei senatori, quindi io credo che però questo abbia dimostrato che l'Italia non è che è stata risanata o comunque abbiamo avuto un abbattimento del debito pubblico o ci sono state delle politiche innovative, la politica è partecipazione, quindi quando c'è partecipazione, ci sono più cittadini che partecipano, che sono all'interno di un contesto come quello istituzionale, io credo che sia un fattore positivo sempre, ovvio che noi non siamo per il numero elevato di persone o di poltrone così come la si intende, però per un numero giusto e non possiamo non essere convinti del fatto che una regione come l'Abruzzo sia difficile da governare con sei assessori, se pensiamo solo al fatto che Pescara ha nove assessori in giunta, quindi più il sindaco, quindi avere sei assessori in questa regione è oggettivamente un problema e non ne faccio un tema né personale né legato a un aspetto partitico, lo dicevamo l'anno scorso, due anni fa, tre anni fa, quattro anni fa, cinque anni fa, io credo che almeno otto o nove persone siano necessarie per avere delle deleghe più equamente distribuite e poter occuparsi meglio dei problemi, ovvio non è il problema principale né degli abruzzesi né del percorso politico che dovremmo fare, quindi se la domanda è se in attesa di capire se ci sono spazi, strapuntini e cose di questo tipo, la risposta è Vincenzo Dincecco in attesa di aprire questa legislatura per lavorare, non è un tema di strapuntini personali o poltrone riferite al mio percorso politico, io credo che l'appulso in generale, come appunto la regione Sardegna che ne ha 12, ha bisogno sicuramente di un restaring, ma questo avviene a livello nazionale, ovviamente perché avviene per legge, noi non possiamo aumentare o diminuire il numero di assessori e di questo forse credo che sia anche giusto perché se ne occupi un altro contesto. Certo, ultima domanda, ricordiamo peraltro che Vincenzo Dincecco proprio oggi si è insediato come capogruppo del gruppo consigliare della Letra, anche Carla Mannetti come supplente al prossimo consiglio al posto di Emanuele Imprudente che viene confermato assessore. L'ultima domanda è su Pescara, perché su Pescara insomma c'è stata anche una presa di posizione da parte del partito a livello regionale rispetto alla necessità non tanto di rivedere la candidatura di Masci quanto di leggere bene le indicazioni che arrivano dal sondaggio di Noto circa una partita aperta in città rispetto a un centro-sinistra che ha avuto un ottimo risultato cittadino anche alle regionali. Come va chiusa la partita della coalizione e delle liste in queste poche settimane che mancano alla loro presentazione? Quali sono gli errori che non deve commettere soprattutto il centro-destra che governa la città di Dincecco? Ma intanto io credo che non sia solo un tema pescarese, ma in questa regione votiamo in tre comuni che superano i 15 mila abitanti, quindi credo che i partiti si debbano interrogare sulle scelte, sui programmi, sulle persone migliori che riescono a intercettare nel migliore dei modi il consenso popolare perché vincere per noi è determinante. Io credo che sia un segno di continuità anche rispetto ai dati del governo regionale. Quindi il dibattito non è ovviamente solo su Pescara, ma io credo che debba essere ampliato a quei comuni che hanno una valenza nazionale, poiché hanno un numero superiore a 15 mila abitanti. Di fianco a Pescara abbiamo Montesilvano, quindi credo che noi dobbiamo ragionare a 360 gradi di liste, di progetti, di programmi, di quelle che sono le persone che nel migliore dei modi riescono a interpretare un momento storico importante come questo. Per il resto credo che se la domanda più specifica è Pescara, io penso che noi dovremmo continuare a lavorare come abbiamo fatto in questi cinque anni per la città, magari anche purtroppo facendo qualche piccolo errore di natura amministrativa perché è innegabile che un contesto, un'aggiunta, un consiglio che lavora tanto per la città possa anche commettere qualche errore che però magari è stato poi modificato o sul quale ci si è tornati a riflettere e quindi a modificare in corso d'opera, però io non posso non registrare che questa è una città che in cinque anni ha visto tanto impegno, tanto lavoro, io ne sono stato capogruppo della Lega e del Consiglio Comunale fino a un anno e mezzo fa, abbiamo profuso tanto impegno, siamo usciti in maniera egregia dal problema del Covid, abbiamo messo in cantiere tantissime opere e ovviamente se le vediamo partire a fine legislature è perché per un anno e mezzo questa amministrazione ha dovuto occuparsi di altro, abbiamo avuto forse uno dei più grandi e più operativi centri vaccinali di tutta Italia, credo che in cinque anni di questo governo comunale siano stati cinque anni molto positivi per la città, poi ovviamente c'è un dato diverso che sono le elezioni, quindi i cittadini sono chiamati ad esprimersi e io sono convinto che la qualità delle nostre liste, la qualità di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che faremo, che abbiamo messo in cantiere sia oggettivamente insormontabile, dovremo essere bravi in questo mese e mezzo a ricostruire la storia di questi cinque anni perché spesso ovviamente i cittadini hanno un pochino la memoria corta, non è che riescono a ricordare tutto dal primo giorno fino all'ultimo, a ricostruire la storia di questi cinque anni, a mettere nero su bianco il lavoro fatto, il lavoro prodotto, il lavoro che sta vedendo appunto la luce in questi giorni e che vedrà luce nei prossimi mesi e a quel punto io credo che sia inevitabile che la nostra proposta sia una proposta oggettivamente più lineare, più chiara, più vincente rispetto a una controproposta che è fatta di mondi diversi, distanti, che per anni si sono combattuti e che si stanno mettendo insieme per provare a dare un'idea di unità che non c'è, che non esiste nei fatti, che non esiste nei contesti, vediamo quello che sta accadendo in Puglia, vedere oggi il PD affianco al Movimento 5 Stelle con un pezzo del Movimento 5 Stelle ex Movimento 5 Stelle fuori che fa un'altra destra civica, la dice lunga sul fatto che dall'altra parte non c'è programma, non c'è progetto, non c'è alternativa quindi al centro-destra nella nostra città. Grazie, grazie a Vincenzo Di Cecco, buon lavoro in questi cinque anni in Consiglio regionale appuntamento a domani alla stessa cosa con il fatto dedicato alla politica, arrivederci.